Emanuele fa parte di uno di quei ragazzi di cui io vi parlavo in apertura, di quelli che io ho conosciuto nella mia vita che mi danno la dimensione del perché valga la pena continuare anche quando sembra difficile ci sono persone che io ho incontrato in questo percorso e tu le puoi sempre guardare negli occhi e sai che non ti deluderanno che sai che faranno sempre tutto quello che possono fare per il bene della propria gente, per il bene della propria terra e per quello in cui credono che lo faranno sempre senza degenerare, che non se ne approfitteranno mai e rimarranno sempre umili e sopri come sono state quando avevano 15 anni e hanno cominciato a fare politica accursando alla sezione di un partito che magari stava al 4% io credo che valga la pena di dare fiducia a queste persone ma non semplicemente di votarle, credo che valga la pena di accompagnarle perché proprio perché la politica non è un percorso individuale noi non dobbiamo mai far sentire queste persone sole e quindi noi dobbiamo essere la loro comunità, la loro forza, il loro entusiasmo e anche il loro grillo parlante quando domani dovessero sbagliare, quindi vi chiedo non solamente di votarvi, vi chiedo di darvi una mano di essere e di fare questo percorso con loro oggi e domani che avremo di nuovo confermato il nostro sindaco e che avremo di nuovo confermato il nostro sindaco. Grazie